benvenuti in questo tutorial veloce veloce qualche minuto vi farò vedere che io utilizzo il VST della Korg e le Triple R è reale sbadaboom sbadaboom non c'è inganno non c'è trucco è tutto reale questo VST lo si può importare in FL Studio 20.8.4 e poi si può usare il preset di fabbrica di questo VST per inserirlo nelle proprie produzioni musicali vi farò sentire un preset O2 tanto per farvi vedere che non c'è trucco né inganno è reale l'emulatore della Korg e le Triple R questo è il banco dati dei suoni come vedete è tutto reale sto selezionando i suoni e faccio sentire un'infrazione e poi Bene, vi ho fatto sentire alcuni preset di fabbrica della Korg Eletribe, non c'è trucco, non c'è inganno, questi preset io li uso per le mie produzioni musicali e quindi dovrete ricredervi perché esiste realmente per i PC questi VST e i sintetizzatori, tutorial veloce veloce, vi ho fatto vedere che questo VST esiste davvero, scopritelo da voi stessi, importatelo nel vostro sequencer e vi divertirete un mondo a importare i preset nel vostro sequencer e fare delle buone produzioni musicali. Bene, vi ho dimostrato che io utilizzo davvero questi suoni e questi VST, quindi a voi studio, al prossimo tutorial.